Allora, buongiorno, oggi facciamo una frittata, una frittata speciale, non una solita frittata che si fa. Allora, prendiamo quattro uova, le sbattiamo un po', poi aggiungiamo un po' di sale, un po' di pepe. Allora, abbiamo aggiunto anche un po' di parmigiano. Adesso faremo la frittata e poi metteremo anche questi ingredienti. Stiamo friggendo delle patate e poi una piccola parte la metteremo nella frittata. Allora, abbiamo messo la frittata, le uova, nella padella. Appena è un po' fatta, che è un po' fatta da sotto, mettiamo gli ingredienti e poi la pieghiamo tipo calzone. Gli ingredienti sono già qua, mettiamo della scamorza, mettiamo un po' di patate fritte e anche la mortadella. E finiamo di cucinare. Allora, mettiamo la scamorza, mettiamo la mortadella e poi mettiamo un po' di patatine e poi pieghiamo la frittata. Ecco, abbiamo girato la nostra frittata, l'abbiamo piegata, l'abbiamo girata più volte e tra poco è quasi pronta. Quindi, mettiamo il copecchio che si cucina bene il tutto e tra poco possiamo servire. Intanto qui ci sono le nostre patatine che abbiamo fatto. Allora, buon appetito a tutti! Con le ricette, ricette nazionale e internazionale con video e ricette. Potete mettere le vostre ricette quando volete nel gruppo Facebook. Un saluto a tutti, arrivederci! Un saluto a tutti! Un saluto a tutti! Un saluto a tutti!